Meno uno si parte, andiamo a pescare, vediamo come andrà, questi sono i primi freddi di quest'anno, anzi siamo a meno due adesso, vediamo se cala ancora prima di arrivare sullo spot, amici buongiorno Amici iscritti al canale, buongiorno, cominciamo a pescare, oggi una novità, la Spod Station ve la presenterò, presa in prestito dal car fishing, ma secondo me può essere utile anche per la pesca passata, spot nuovo e vediamo come va, acqua cristallina e molto freddo, andiamo in pesca, prima passata. Andiamo 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 Primo barbone in canna Andiamo 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 Eccolo qua Per qui Primo barbo della giornata Niente male Peccato questi tumori vicino alle pinne Ok, lasciamolo andare Un bel barbusso Forse è preso di cuore Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo che era preso fuori Cazzo Improvvisamente arriva Quest'acqua torbida E siamo passati Da un'acqua che era Limpida come un cristallo A questa torbidezza Che roba Pazzesco Come se avessero aperto Improvvisamente una diga Incredibile Incredibile Marrone Acqua marrone Ci vorrà un po' Prima che il pesce si abitui a queste nuove condizioni Ma io sono fiducioso Che ritornino in attività E quindi continuo a pasturare E a pescare Circa un'ora dopo L'acqua comincia a schiarirsi E c'è anche un pesce che salta Sulla mia linea di pesca O poco più fuori La prima affondata Era il fondo Ma ne arriva presto una seconda E questa volta È strike E che cazzo E ora E che cazzo E che cazzo E che cazzo Gran bel pesce Questo Proprio un bel pescione Mettiamolo in acqua Perfetto Grazie. 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 che va un bel pescione proprio bello e siamo altra ci siamo, ci siamo in questa stagione hanno meno forza rispetto a quando fa caldo e serve meno tempo per salparli e siamo in questa stagione pochi minuti ed il pesce è a portata di guadino nonostante si tratti di un pesce di notevole taglia eccolo livrea bellissima ok 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 un pesce bellissimo no altro missile altro sommacchi via il 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Oh, bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. questo potrebbe. Amici a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, grazie a tutti. Grazie a tutti.